Il nuovo servizio che ci porta in Val Bormida e ci porta a conoscere un personaggio unico di Liguria. 700 fisarmoniche e non solo, anche macchine strabilianti che arrivano da oltre l'oceano. Tutto da vedere, il servizio. Siamo arrivati a 700 fisarmoniche, non una uguale all'altra. È una storia di un personaggio unico, quella di Mauro Torterolo. Nato e cresciuto nell'entroterra savonese, vanta da sempre una straordinaria manualità, messa a frutto come muratore, professione che gli ha consentito anche di aumentare giorno per giorno quella ricchezza che oggi conserva in Val Bormida. Avendo in casa qualche fisarmonica mi sono appassionato e ne trovavo in giro, lavorando sotto i tetti, perché andavo nel soffitto e non riuscivo a trovare qualcosa. Ogni tanto le cambiavo con lavoro, ogni tanto le comperavo. Tuttora Mauro Torterolo vanta 700 fisarmoniche. Racconta che non ha mai imparato a suonare in modo professionale e non ha esitazioni a rispondere alla domanda sull'appezzo più unico. Tutte, dice. Delle fisarmoniche non esiste un vero e proprio mercato. Il costo è dato soprattutto dalla storicità di uno strumento nato nel 1829 e che il collezionista di Val Bormida sfoggia dal 1840 al 2016 attraverso le grandi scuole italiane partendo da Castelfidardo. Infine, le curiosità che espone, tra queste, anche le fisarmoniche dei Trilli o di Dino Crocco. C'è persino quella che nel 1876 costava 500 lire. Storie di passione e amore per la musica, racconti di collezionisti che oltre le fisarmoniche in garage conservano pure le Cadillac d'oltre America. Avevo sempre l'idea, da piccolo mi è sempre piaciute queste macchine, quando sono riuscito a averne una e poi non mi sono fermato. Ho cominciato con un'altra e adesso spero di fermarmi perché divento vecchio anch'io e non ce la faccio più. E anche queste viguri è esattamente come i piatti che vediamo nelle immagini serviti da welcome e ricevimenti, il catering di Villa Serra. Ma credo che un commento lo meriti il signor Torterolo Rossi. Accidenti, altro che commento. Ci vuole una costanza e comunque c'è un patrimonio straordinario lì dentro. Almeno io credo che sia veramente qualcosa forse di unico. Non so se quanti a Castelfidardo, che è la patria delle fisarmoniche, abbiano un patrimonio di quel genere lì e poi così è steso anche temporalmente. Cercheremo di seguire la vicenda e di capire se in Val Bormida ci siano gli spazi o meno per un vero e proprio museo, perché di fatto oggi non c'è ma davvero sarebbe qualcosa di doveroso per un patrimonio di questa portata.